Cosa è successo a Ivana Trump? La donna è morta nel suo appartamento negli Stati Uniti. Tutti i dettagli nell'articolo, è morta Ivana Trump, l'ex moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ma cosa le è successo? Leggi anche, Uma Bedin, chi è la nuova fidanzata di Bradley Cooper? Età, marito, figli, lavoro, foto, Instagram Come è morta Ivana Trump? Ivana Trump ci ha lasciati all'età di 73 anni, la donna è morta nel suo appartamento di Manhattan. La sua scomparsa è stata totalmente improvvisa ed è stata annunciata proprio dal suo storico ex marito Donald. La coppia aveva avuto tre figli, Donald Junior, Eric e Ivanka. Ma cosa è successo a Ivana? I Trump da giovani infarto Ivana Trump è stata stroncata da un infarto. Qualche mese fa, dopo la scomparsa di Rossano Rubicondi suo ex compagno Mara Venier lesse una lettera dell'ex moglie di Trump in diretta a Domenica in, ecco le sue parole in quell'occasione, Ivana e Rossano l'annuncio di Donald Trump sulla morte Donald Trump, ex marito dell'ormai defunta Ivana, ha dato così l'annuncio della sua morte. Funerali non abbiamo notizie in merito alle ultime volontà della donna scomparsa e non sappiamo quando verranno celebrati i suoi funerali. Attendiamo notizie dai familiari e facciamo loro le nostre più sentite condoglianze. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.